Vieni a comprare con la 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 Vieni i soldi dai Se vuoi te li presto io Eh no Ehi tu Sei proprio tu Dimmi Che vuol dire dimmi Sono in un monitor a parlarti Che mi dici dimmi Oh mio dio Un monitor che sembra che stia parlando con me Conosce anche il mio nome Giampiero Ma dai Dimmi coglione Dimmi sei stanco di guardare ore e ore A casa un monitor mentre lavori Sono stanco ora di guardarlo dopo 20 secondi Dimmi tu Beh sei fortunato La smetti Che c'è Dico entusiasmo Ah ok Semi Wow Benvenuto in Samsung G24 FG70 Perché le sigle sono morte da tempo Passiamo all'egiziano Mi è il modello zitto Preparate il giocare a teoi giochi preferiti Dico 144 Hz Refresciare non è mai stato così rinfrescante Sì Sì Eh fai tu Vabbè Refresh a 144 Hz Schermo curvo per cullarvi la vista Tecnologia quantum dot Per tanti colori Un led per quelle notti Uhuhu Che vuol dire uhuhu poi? Zitto Angolazione personalizzabile E mamma mia puoi fare questo Qui con noggiorno in cia sono minchioni Sì Giù E su Destra Sinistra Io non lo sapevo Finalmente un video dove nell'intro non c'è ciccio Ah eppure io finalmente sto prendendo il controllo di questo merda di canale Sì tanto già la gente mi chiede Ma vorrei conosci dei video? Chiedetele la sua cazzo di immagina Coglioni E adesso parliamo del monitor Che è una finchia Intanto volevo ringraziare Samsung per questo bellissimo monitor che mi ha dato Per non dimenticarci dei ringraziamenti alla divisione Information Technology di Samsung E' Tito Tito Il Tito Il grande Tito Agisce Un citamento da Assassin's Creed Agisce con il buio per servire la luce Tito è lui Bravo Lo so lo so E' meggiore da Assassin's Creed No mai Comunque Siamo game E sapete non ho un pc da gaming quindi Si So che questo monitor Venendo tutti per te E' il migliore Nel campo del gaming proprio è Il migliore anche nei tornei Ora arriverà sicuramente Qualcuno Betty che esiste il modello Scelto il 6 Si cadrano il culo Se vai su Twitch Eh? Tutti quanti hanno su tutto qua? Tutti Perché quando fanno tipo i tornei no? E fanno vedere tutto Tutti i computer e poi fanno il gameplay Ehm... Marco il bianco Non sapete ma tutto questo occupaggiamento ci sta arrivando perché vogliamo Iniziare Twitch E abbandonare il YouTube per sempre Noo E' proprio così Addio No ragazzi no E' ovviamente Twitch sarà una La cilaggia sulla torta La torta è YouTube Quindi ragazzi Guarda che cilazione Guarda che cazzo Io ormai sto zitto Ciccio Perché tu hai preso le retini del cavallo Cicci Però vedremo anche in questo campo Infatti ci arriveranno dei buoni pc da gaming Con i quali inizieremo Twitch Noi non vediamo la cazzo di ora A proposito visto che probabilmente metteremo un video dove annunciamo che abbiamo il Twitch In realtà il canale esiste ancora però lo stiamo pubblicizzando molto perché non siamo pronti a iniziare Una volta che avremo tutto il reclumaggiamento inizieremo quindi faremo il video Se avete qualche gioco da consigliarci da giocare su Twitch Io probabilmente, molto probabilmente giocherò ad Arston e World of Warcraft Probabilmente Io ho Rocket League E contro il strike contro il mondo Io gioco le macchinine e le ruote Si Le palle Si Quindi calcio più macchine Si Io ho il più brutto del mondo Non so il più brutto del mondo coglione Jaina contro Jaina EEEEY Almeno cambia la naturalità del caviatto di voce Jaina contro Jaina Cambia No no Io gioco a Rocket League e ne vado fiero E contro il strike Anche se faccio schifo Faccio il gioco Mi prendo il mondo per andare a Arston Jaina Ogni volta si vede all'interno condominio Al prossimo episodio Con ciccio e casa tua Che cazzo guardi? 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 Che cazzouana A Connie